Io vedo le altre squadre di Eurolega ma anche di campionato che giocano, che vincono, che non devono passare ogni santa partita col patema d'animo, col fegato giallo, con i sali a portata di mano perché vedono la loro squadra, perché vedono delle cose, che fanno delle cose che le fanno stare in ansia. I tifosi non sono costretti a passare tutte le sante settimane a dire cosa faremo stasera? Faremo risorgere l'alba, che è l'ultima in classifica ed è un po' scarsa, un po' tanto scarsa, oppure vinceremo? A quanto pare il destino dell'Olimpia e dei tifosi dell'Olimpia in verità è questo, ossia una grande sofferenza e soprattutto la capacità di sopportare una grande delusione come quella di stasera. Perché non era così facile pronosticare una vittoria dell'alba, o meglio, si poteva pensare che potesse vincere l'alba se l'Olimpia avesse fatto come spesso le è capitato di fare, ossia per opere di solidarietà, di beneficenza, di spirito di altruismo, regala punti a chi è in difficoltà. Quindi o decidiamo di istituire un premio alla fine della stagione per la squadra che per la sua magnanimità si è distinta nella stagione, regalando punti ad essere la manca a chi ne aveva più bisogno e quindi perdendone lei stessa in prima persona. In questo caso l'Olimpia vincerebbe il primo premio in assoluto, sempre e comunque, quindi avremmo la consolazione di vincere qualcosa, ma non certo l'Eurolega. L'Eurolega se ti comporti così a Berlino, cioè te la sogni, ma la vedi col binocolo da qui all'Equatore e migliaia di chilometri ce ne sono parecchi. Amici, che dire, l'inizio di questo commento non poteva essere diverso ed è un commento segnato dalla delusione, un po' dalla rabbia, ma non so se sia meglio la rabbia o la delusione. Intanto, nel frattempo, se volete lenire un attimo la delusione, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E per il resto, con l'aiuto delle statistiche di questa bruttissima partita, possiamo provare a fare un commento a quello che abbiamo visto questa sera, che per alcuni tratti ci ha dato una certa, tra virgolette, sicurezza, anche se comunque con l'Olimpia e nel basket in generale, nello sport in generale, la sicurezza non c'è mai. Però, voglio dire, quando si è avanti di 12, nel secondo tempo, anche nel terzo quarto, dici, vabbè dai, forse, forse questa sera ce la facciamo, ma invece no. Mai illudersi, come si diceva in diretta, è ancora lunga, tosta e dura, ma per l'Olimpia solo, perché per l'Alba invece è stata una motivazione unica. Sembrava veramente una squadra, non so, sembravano il Real Madrid questa sera, e infatti vedo il Real Madrid invece che sta conducendo il derby spagnolo, dopo essere stato sotto anche di diversi punti. Ma io non lo so che cosa c'è di differenza, cioè voglio dire sì che lo so, so che cosa c'è di diverso tra il Real e l'Olimpia, però se ogni partita che diventa combattuta punto a punto, l'Olimpia deve perderla, non lo so, direi che non possiamo andare molto lontano. E come dicevo in diretta, è vero che se l'Olimpia tiene l'avversario sotto i 70 punti, forse è più possibile che vinca. Se si supera questa quota da parte dell'avversario, l'Olimpia fa fatica, perché anche in attacco non ha delle soluzioni, e come vedremo tra poco, se non segnano quei due, non c'è speranza, voglio dire, perché nessun altro sa inventarsi i canestri. I canestri come fanno questi due? E quindi abbiamo detto che basta vedere la storia dei quarti, 12 a 18, il primo quarto, che già il primo quarto è iniziato male, perché dopo circa la metà eravamo 10 a 3 per loro, e già lì si è visto che in attacco non eravamo particolarmente brillanti, cioè non riuscivamo a segnare, manco se il canestro si fosse allargato fino a diventare una vasca da bagno, come si dice di solito. Poi sul finire, nella seconda metà del periodo, finalmente abbiamo acceso i motori e ci siamo portati prima in parità e poi in vantaggio addirittura di 6 punti. Il secondo quarto è stato più o meno simile, con un Alba Berlino che ha fatto però 23 punti, quindi anche lei è riuscita a capire un attimino come fare, pur con delle percentuali, con una capacità di tiro che non è che fosse eccelsa. Il terzo quarto, siamo tornati in campo nel terzo quarto, quindi nel secondo tempo, con un piglio più positivo, quindi segnando, difendendo, mettendo un quarto da 24 punti, concedendone però 22, però l'ultimo periodo, se prendi 28 punti e tu ne fai solo 21, come ha scritto qualcuno in Euroliga, non si vince e forse nemmeno in campionato, perché abbiamo già visto la fatica che abbiamo fatto domenica con Tortona e Tortona non è il Real Madrid. Per quanto riguarda le statistiche generali, le percentuali del tiro sono favorevoli all'Olimpia, diciamo quella generale 48,4 contro 47,4, la percentuale da 2, 54,5 contro 55,6, e quindi hanno tirato più loro da 2, quindi hanno realizzato di più da 2. Tiro da 3, 41,4,40, questo è forse uno dei pochissimi dati positivi questa sera, che abbiamo sicuramente migliorato la percentuale da 3, visto che le statistiche delle ultime partite parlavano di dati veramente allarmanti, intorno al 20-23%, 25 proprio quando andava bene, e con il 25% da 3 non si vince manco nelle partite dell'oratorio. E i tiri liberi? Ecco, 5 sbagliati lasciati sul ferro, 4 dei quali tirati da Hines, sicuramente contribuiscono al risultato finale, che vede uno scarto solamente di 3 punti, però poteva essere anche 1 il punto, però abbiamo comunque perso. I rimbalzi 31-34 ed effettivamente sul finale sicuramente l'Alba ha dato il meglio di sé anche nei rimbalzi, soprattutto in attacco, c'è stato un momento in cui in ogni azione l'Alba era sempre l'Alba col pallone in mano e ogni volta che ci si trovava sotto canestro il pallone finiva sempre e senza ombra di errore nelle mani tedesche. L'Olimpia, sì, oddio, qualche rimbalzo, insomma, sono solo 3 quelli in meno, però nei momenti che contavano non riusciva a recuperare il pallone. Per quanto riguarda gli assist, 18-17, quindi più o meno ci equivaliamo, stoppate 3-1 e le stoppate sono state molto dolorose, soprattutto su Mirotic, quando praticamente in campo aperto da solo è arrivato sotto canestro, si è fermato, ha rallentato, come se volesse, Max diceva per prendere il fallo, però dico, tu preoccupati di segnare, poi se arriva il fallo, bene, ma tu metti da dentro e infatti è stato fermato. E poi un'altra stoppata mi sembra ancora di Procida che sinceramente ha fatto bene. Lui è spagnolo, gli italiani in terra tedesca si sono difesi comunque anche questa sera. Palle perse, 11-12, anche questo è un dato leggermente in miglioramento, nel senso che nelle altre partite ne perdevamo 17-18, quindi oltre la quindicina. Questa sera abbiamo limitato a 12 le palle perse, ma di queste 12, 7 palle rubate e quindi abbiamo lasciato molte seconde opportunità agli avversari, che sicuramente sono stati bravi a convertirle in punti e falli personali. Questa sera siamo in difetto noi, nel senso che abbiamo 20 falli contro 17 e di solito invece ne subiamo sempre di più più che farli. Venendo dal capitolo giocatori e marcatori e attacco, è facile fare i conti quando degli 82 punti, 55 li hanno fatti messi insieme Mirotic e Shields, vuol dire che gli altri 27 sono stati lasciati agli altri giocatori dell'Olimpia e per ritrovare il primo marcatore dopo Mirotic e Shields bisogna andare molto giù con Maudolo a 7 punti in 17 minuti. Ora, noi sappiamo che Shields è uno dei giocatori di punta o perlomeno Mirotic e Shields, perché Shields forse era la punta di diamante fino allo scorso anno, quest'anno con l'arrivo di Mirotic necessariamente. I riflettori sappiamo bene che sono puntati sulla nostra stella, ma non per questo diciamo non consideriamo Shields o comunque pensiamo che Shields sia sceso di livello o non non possa dare il suo fondamentale contributo come come l'anno scorso. Se ti attacchi però a solo due giocatori anche qui non va bene, perché succede qualcosa a loro oppure sono carichi di falli oppure gli viene raffreddore l'Olimpia va ancora più in difficoltà. Ricordiamo poi che Timan ha fatto 22 punti, un giocatore che sicuramente è tra i migliori di tutta la rosa dell'alba insieme secondo me a Olinde e a questo Brown che questa sera sembrava indemoniato con 18 punti la metteva ovunque da qualunque posto da qualunque punto in qualunque momento e Olinde che è comunque una nostra vecchia conoscenza perché ogni volta che ha giocato con l'Olimpia ha sempre si è sempre messo in mostra e ha sempre fatto ha sempre fatto bene. Diciamo che l'Olimpia si conferma la bestia nera o una delle bestie nere dell'Olimpia perché ricordiamoci l'anno scorso quando abbiamo perso di forse 20 punti al forum con una prestazione inguardabile e questa sera diciamo che se non ci avviciniamo insomma non possiamo nemmeno dire che che siamo migliorati o che abbiamo completamente dimenticato quella bruttissima parentesi che ci ha fatto affondare ancora di più nella classifica di Eurolega dell'anno scorso e quest'anno siamo già a buon punto all'inizio della diretta Alan diceva partita fondamentale io mi sono permessa di dire forse fondamentale no o decisiva ma importante sì perché comunque andare a perdere a Berlino contro una squadra che viene definita da più parti come scarsa come dicevo all'inizio vuol dire aver perso due punti che potrebbero rivelarsi fondamentali alla fine dell'Eurolega o comunque in un certo in un certo momento dell'Eurolega anche perché le prossime partite che ci aspettano saranno sicuramente più più agevoli gli altri marcatori nostri anche Kumadi ha fatto vabbè sei punti solo va bene ma me lo ricordo perfettamente l'anno scorso che a Milano ci ha messo in fortissima difficoltà e ce l'abbiamo ce lo siamo ritrovati anche quest'anno ma è lo stesso che dico sì esatto proprio lui Ainz ha fatto cinque punti sicuramente due due sottocanelle schiacciate e un libero avendo però sbagliato quattro dei liberi Pangos stasera a parte in un momento di gloria all'inizio del terzo periodo mi sembra stasera si è non ha non ha fornito la stessa prestazione convincente delle ultime delle ultime partite quindi possiamo considerare una serata storta però se le serate storte capitano con l'Alba Berlino mi chiedo che cosa succederà se avremo una serata storta col Barcellona e questo lo scopriremo solo vivendo Voigtman anche lui non particolarmente sugli scudi Tonut così così Flaccadori l'abbiamo visto solo per pochissimi secondi pochissimi minuti ha messo dentro un canestro in penetrazione solitaria un sottomano da due e All zero punti e sei rimbalzi e quattro assist anche lui dopo le buone prospettive lasciate il discorso con Madrid di nuovo non non è più l'attaccante che avevamo conosciuto e piacevolmente scoperto due anni fa Melli stasera ha fatto tanto bene domenica ma questa sera invece abbastanza inconsistente zero punti un rimbalzo e due assist in 17 minuti quindi ha giocato anche relativamente poco poi 10 minuti assolutamente senza traccia zero punti zero rimbalzi e zero zero assist infatti poi è scomparso non si è più visto sia lui che Flaccadori e Tonuta anche non si sono più più visti tra i colori che non sono stati convocati ricordiamo che c'è anche Ricci che sta vivendo sicuramente un momento non particolarmente non particolarmente bello vediamo un attimo velocemente i commenti che possiamo immaginare siano vediamo se riesco a staccare la pagina forse no non so che cosa ho combinato che cosa ho combinato qua sì così vediamo se riesco a fare pasticci andando sulla pagina ufficiale facebook dell'Olimpia un attimo solo che la prendiamo andiamo a prendere la pagina dell'Olimpia vediamo se hanno già messo l'Olimpia allunga tre volte ma l'alba rimonta e va a vincere 85 82 vediamo i primi commenti che sicuramente sono immagino del tenore della cacciata circa il fatto di cacciare Messina se riesco anche a a far scendere i commenti ma non si ah eccoli qua di chi si ha la colpa non lo so non meritiamo questo Miro ticce questo è questo è lo spauracchio insomma della della di tutti i diffosi insomma che possa pentirsi di essere venuto a Milano perché comunque era arrivato con ben altre intenzioni e ben altre prospettive la palla canestro Olimpia comunica diverso elevato dall'incarico ecco c'è sempre questo light motif di cacciare Messina che Messina è inadeguato dopo 5 anni bla 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 tutte cose che sappiamo io non so se potrebbe essere la soluzione perché appunto in campo non ci va Messina e sicuramente certo lui è responsabile di come gioca la squadra però se un giocatore sbaglia il canestro non è colpa di Messina è vero anche però che all'Olimpia da 5 anni e se ogni anno ti ostini a cambiare i giocatori l'amalgama e la chimica difficilmente sarà trovata e ogni anno dovremo passare 2, 3, 4, 5 mesi a trovare la quadra per cercare di fare stare insieme di giocatori che ovviamente non si conoscono faccio sempre lo stesso commento non puoi prendere un giocatore come Miracic senza avere un play che sia in grado di affrontare questo genere di competizione e far giocare a dovere la squadra questa mancanza è ancora più incomprensibile dopo aver commesso lo stesso errore per metà della scorsa stagione è ora di intervenire subito per evitare di buttare via un'altra stagione anche qui si ripropone il problema del play stasera Pangos è vero non ha fatto bene ma se non è Pangos chi è? qual è il giocatore che potrebbe essere la soluzione? l'anno scorso abbiamo pescato dal cilindro Napier quest'anno io non porterei un americano tipo Nun di cui si fa il nome cioè deve essere un giocatore che deve veramente spostare gli equilibri non è il primo nome che che passa per la testa dei dirigenti dell'Olimpia o di Messina o di Stavroclos o di chi per loro responsabilità dell'allenatore sopra di 12 non si può perdere una partita in questo modo spero vivamente che Messina abbia l'onestà intellettuale di rassegnare di remissione dispiace ma ormai ha fatto il tempo ricordiamo che l'anno scorso a un certo momento nel momento forse uno dei momenti peggiori dell'Europa dell'Eurolega dell'Olimpia Messina aveva detto se entro un certo momento quindi forse fine gennaio le cose non saranno cambiate e la squadra non avrà una scossa non riuscirà a invertire la rotta io sicuramente me ne andrò poi la squadra ha avuto dei momenti di ripresa e quindi Messina ha giustamente sì giustamente no non lo so mantenuto il suo il suo posto ogni anno a ottobre novembre ci ritroviamo a fare sempre gli stessi discorsi complimenti si vinceva bene domani che amarezza esatto amarezza delusione via Messina prendiamo simpatia trinchieri vabbè qua ci sono anche quelli che fanno della facile ironia o addirittura del sarcasmo sto guardando il derby spagnoli se penso a Pangos mentre vedo cosa sta facendo il ciaccio sì ma il ciaccio rimane il ciaccio il ciaccio è nell'Olimpo e tutti gli altri che sia Pangos che sia che ne so Napier o chi per esso insomma vengono tutti dopo partita buttata via scelte sbagliate tiri liberi le garati peccato era da vincere eh certo a prescindere la sconfitta santo cielo che brutta Olimpia si è toccato il fondo messi in out adesso che ha fatto il record ringraziamo Ainz e facciamo giocare della gente che sta in piedi adesso però non ce la prendiamo con Ainz perché comunque i quattro punti suoi sono stati anche importanti sicuramente in quel momento della partita maledetto ultimo quarto come contro il real oddio però non lo so se possiamo imputare la sconfitta solo all'ultimo quarto sconfitta assurda vabbè imbarazzante insomma abbiamo capito che il terreno dei commenti è questo o cacciare Messina o prendere il play cose che si dicono da mesi quindi niente di nuovo sotto il sole la cosa nuova è che appunto l'Olimpia ha perso anche questa sera l'Olimpia ha perso contro quella che era l'ultima in classifica e andiamo a vedere un attimo la classifica dell'Eurolega che vede l'Olimpia quattordicesima con quattro partite giocate uno scordi una vinta e tre perse Albert Berlino rimane penultima con una vinta e quattro perse cinque partite però l'Olimpia ricordiamoci che è una partita in meno e a questo proposito andando verso la conclusione di questo commento ricordiamo che l'Olimpia tornerà in campo domenica alle ore diciassette al forum contro Pesaro in campionato martedì ora è 20.30 o 20.45 non lo so comunque martedì sera recupereremo la partita contro il Maccabi sospesa un paio di settimane fa giovedì di nuovo al forum il 2 novembre contro il Monaco di Mike James domenica prossima 5 novembre ancora al forum contro Brindisi se non erro e poi un'altra sfida di Eurolega contro Valencia le partite si fanno importanti si fanno tutte ravvicinate e con avversari che sicuramente sulla carta sono ben più difficili dell'alba quindi spero che non valga l'equazione se abbiamo perso con l'alba a Berlino perderemo anche con le altre perché nello sport per fortuna non si sa mai quindi ricordandovi di nuovo di attivare la campanellina di iscrivervi al canale e di non perdere nessuno dei nostri contenuti soprattutto nel prossimo imminente weekend di sport che sta per cominciare con questa delusione che ci farà meditare che ci farà spero continuare a comunque a correre in Eurolega anche se comunque siamo ancora all'inizio della stagione quindi c'è tutto il tempo io vi ringrazio per aver seguito questo commento e vi do appuntamento alle prossime ai prossimi momenti con il basket con lo sport in particolare con l'Olimpia con Olimpia Pesaro in particolare domenica per la giornata di campionato grazie e alla prossima al prossimo appuntamento ciao ciao